Ragazzi, buonasera a tutti, io sono Coridan, sono qui in compagnia di mia moglie, se vedono le mani, e stasera in questo gameplay vi porteremo una partita, anzi, chiariamo la nostra primissima partita ad Arkham Horror. Quindi, è la prima volta che, anche io ci rigioco dopo tanti anni perché ho giocato a questa versione per farci ovviamente il tutorial, però una vera e propria partita non la facevo dai tempi della primissima edizione con amici. E per mia moglie invece è la prima volta, quindi nel caso ci fossero errori e regole interpretate un po' maluccio, passatecelo insomma perché è la nostra prima partita, tanto sicuramente metterò nel caso note a video e tutto. Prima di tutto bisogna, allora casualmente andremo a scegliere i personaggi, per quanto poi casualmente, insomma tanto fronte e retro ti fa vedere chi è quel personaggio lì, però voi fidatevi di noi, mia moglie senza guardare se ne sceglie uno, chiudi l'occhio e pigliatene uno. Ti è capitato quello delle case della follia mi sa, eh? Sì? Eh, allora questi si mettono, si rimettono nella scatola. Sapientona. No, no, pensavo quella del Kung Fu. E io invece mi è toccato Calvin Wright, che è questo personaggio qui. Quindi questo è il mio e quello di mia moglie è quell'altro. Ora ragazzi ovviamente bisogna fare un setup iniziale, vi si fa già vedere una volta che è finito, perché ciascun personaggio ha tot segnalini, vedete, segnalini di vita, sanità mentale, abilità, però dietro ha non solo un'abilità speciale ma anche degli oggetti di partenza ad apprendere. Ora ovviamente velocizziamo. Ok, allora, il gioco come vedi qui, no? Ha delle carte, carte che poi ovviamente vengono pescate e nelle carte oggetto, queste qui sono altre carte particolari, alleate e cose varie, nelle carte oggetto ovviamente le puoi pescare prendendole in varie maniere. O se no andando o con un'azione particolare che ti potrebbe capitare o con le carte mercato e emporio puoi andare e comprarle e ognuna di queste ha un costo in dollari, lo vedi qua su Ciba. O la prendi come azione girando o se no semplicemente quando vai all'emporio la compri. Vabbè. Ora quindi la tua prima azione l'hai fatta perché hai fatto la concentrazione. Ora, l'altra tua azione potresti o ti muovi va in un altro quartiere o se va mi sposto io in un altro quartiere potresti o prendere una moneta o spostarti perché non c'è nient'altro da fare la famiglia. Quindi rimani ferma lì. Ok. Ora tocca a me, io mi muovo, ok? Faccio uno, due perché il movimento, ciascun movimento ti fa muovere due caselle e faccio quell'azione lì per togliere quello che devo tirare sapienza. Quindi lui di sapienza ha tre, puro, senza concentrarsi nel nulla. C'è due abilità particolari? No. Allora, vediamo la cosa, quando questa carta non può essere riscontrato, ok? Allora, tiro tre, solo i cinque e sei hanno successo, quindi questi due niente, però questo ha avuto un successo, quindi questo qui è rimosso, ok? Via. Visto che i mostri sono tutti pronti, perché non sono stati ingaggiati, ora durante la loro fase si muovono. Questo mostro qui si muove o verso la casella instabile, ok? O verso l'investigatore che ha più forza. Ora, la casella instabile è quella che ha questo simbolino qua su in cima, quindi attualmente la casella instabile è il manicomio di Arkham, no? I mostri scegliano sempre di fare la strada più breve, ok? Per attaccare il loro bersaglio. Se no, visto che sono pattuglie, è verso l'investigatore che ha più forza. Il mio c'ha tre, il tuo? Due. Quindi, questo si muoverà per forza verso qui, andrà qui, e questo invece dovrebbe fare uno, due, tre, uno e due. Questo viene direttamente da me, ok? Ora che lui mi è arrivato a un corpo a corpo, lo giro dall'altra parte e il mostro non è più qui. Mi viene attaccato a me, ok? Perché i mostri ti seguono. Ora io posso fare, ora per forza mi attacca, però nel prossimo turno posso fare un'azione di illusione, ok? O l'attacco e l'ammazzo, quindi lo levo dai coglioni, o se no faccio un'azione... Tanto c'è uno di vita, è debole. O se no faccio un'azione di illusione. Faccio una prova per scappare e lo lascio lì. Il problema è uno soltanto, che quando i mostri ti attaccano in questo gioco qui, fanno come zombie, sai? Ti fanno danni automaticamente, ok? Non c'è da attirare dado, non c'è da attirare nulla. Quindi il mostro, qua giù in fondo c'è scritto che mi fa un segnalino ferita. E io me lo metto accanto alla scheda. Fine della fase dei mostri. Ora c'è la fase degli incontri. Io la fase degli incontri non la svolgo, perché sono già ingaggiato con un mostro. Ti invece devi fare la fase degli incontri. Ora dal mazzo del north side... Sì, prendi una carta. Prendi una carta. E per caso la carta evento guarda in alto a sinistra? C'è la lettering in grandimento? No. Ok, perché è lì che peschi l'evento, capito? È lì che peschi il coso. Leggila. Ti ti trovi a stazione ferroviaria. Allora, ti siedi accanto a Bill Washington. Sì? Il vecchio inserviente ferroviario. Ti mostra qualcosa che qualcuno ha dimenticato... Ah, è che qualcuno ha dimenticato in stazione e gli chiedi se puoi tenerlo tu. Sarebbe carisma, perché c'è il simbolo del carisma tra parentesi. Se superi la prova, Bill si convince che il proprietario sarà già stato... No, sarà già tornato a Boston oramai. Ottiene un oggetto comune. Se falisci, ti risponde che preferisci costruire nel caso il proprietario e torni a cercarlo. Fa un teore di carisma. Allora, visto che c'è soltanto il simbolo... No, no, basta sempre il risultato. Basta sempre. A meno che non te lo dia la carta, però mi sembra non ci sia nemmeno. Ho un teore di carisma, quindi sono tre dadi, giusto? Ecco, che cavolo l'altro. Vai, ti credi? Oggetto comune. Oggetto comune? Qui. Thompson? E che era a capone? Un mitra di ovolo. Dei, lamentati. Quella la metti in fondo. Ha una faccia di... Come si chiama? Min. Ha una faccia. A capone. Ricordiamoci soltanto, devono essere o tre nello stesso per aprire un portale o cinque in tutto nel quartiere, ok? Eh, lì bisogna andare subito a pulire. Eh, allora, se te passi di qua, fai uno, due, il mostro ti ingaggia subito. Eh, lo so. Però, vabbè, è uno schifo, eh, il cultista. More, c'ha forza uno. È vero che io c'ho il Thompson. Cioè, è un aborto. Allora, portami lì. Allora, fai uno, due. Però non posso attaccare, perché ormai ho finito i miei movimenti. No, il movimento è un'azione, l'attacco è un'altra. Ah. C'ha due azioni. Quindi, qui sotto l'attacca è addosso. Ora, ti dice che devi fare un tiro con meno forza. Ti dice quanto ti toglie. Uno. No, zero. Ah, zero. Zero. Ok, quindi c'ha una ferita. Tira i tuoi dadi, semplicemente. C'ha una ferita? No, no, no. Quanto ti dà il Thompson? I mostri fanno danni nel loro turno. Più cinque, più due. Sono sette di forza. Eh? Sì. Più cinque. Vai, tira sette. Tira tre, sei, e poi il settimo, buh, regalato. Tiro sei. Dove cazzo tiro? Vedi. Mi tocca toglie, però, eh. Sì. No, nemmeno uno. Come no? No, nemmeno cinque ha fatto. Tira ne un altro, ce n'è uno? No, amore, c'è. Quattro. Cioè, ne tiro sei. Tanto sono forte. Ne tiro sei. Ragazzi, su sette dadi non ha fatto almeno un cinque. Su sette... No, fai cazzo. Io te l'ho detto che c'ho le mani di merda per tirare i dadi. Deci, levo... Porca mia. Ah, mi sono presa però un danno. Eh? Un danno me lo prendo o no? Un danno... No, no, no. Se nella fase dei mostri danni. Nella tua fase un po' subì danni. Ok. Ora, io con la prima azione voglio ammazzare quello che c'è un corpo a corpo. C'ho forza tre. Allora, faccio una cosa. Stiamo... Secondo me stiamo sbagliando e perderemo velocemente, eh. Perché ti faccio vedere. Allora. Stiamo sbagliando per forza qualcosa. Sicuramente qualche... Sì, sì. Regola abbiamo capito male. No, 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 no. Non è fatto delle regole. Stiamo proprio giocando male. Cioè, non strategicamente. Mi dai uno più una forza, se lo trovi. Quello che sta a muscolo. Allora. Io con la prima azione faccio concentrazione. Ripiglio più una forza. Ricordati che questo lo puoi scartare per ritirare un dado, eh. Nel caso. E attacco il mostro che c'ho addosso con quattro dadi. No, moriremo. Cioè, ho lo scart e ne uso uno, ma dè. Moriremo. Quindi, con la prima azione l'ho provata ad attaccare. E non l'ho ucciso. Fase dei mostri non... Quello lì non si muove, ma il mio mi attacca. Questo non si muove, non fa niente. Però il tuo che c'è addosso ti attacca. Quindi ti fa un danno. Tutto veggio. Non c'hanno nemmeno da tirare i danni. Quindi ti prende una ferita. Ora c'è la fase degli incontri. È uguale, indifferente. Vabbè, girami una carta a me tipo per la strada. Vai. E guardo praticamente dove c'è la... Ah, devi vedere anche il simbolino. Ti ricordi? La lanternina. Quindi lanternina urbana. Quando passi di fianco ad Anna Kaslow per la strada, la donna si gira di scatto e ti afferra il braccio. Tu, tu, sei quello che compare nelle mie visioni. Lascia che ti insegni. Sibila. Devo fare un tiro di sapienza. Se superi la prova si dimostra essere ben più di una semplice chiromante. Utieni una magia. Se fallisci, ignori le sue fanificazioni come fossero semplici frottele o signi di demenza. Ok, tanto per culo e mi ritrovo. E invece, invece, l'ho superata. Quindi questa la metti in fondo. Sì. E cosa mi ha detto? Mi becco una magia. Una carta magia. E qui scrivi sulle carte alleate, invece. Ok. Avvizzimento. Come parte di un'azione di attacco puoi effettuare una prova di... Non mi ricordo. Sapienza con meno uno. Aggiungi il risultato della tua prova, il risultato della prova dell'azione di attacco. Ah, cazzo. Potrebbe essere buono. Ricordi... Io, vedi, per ora ho sempre attaccato, ma non ho usato mai il pugnale spirituale che mi dà più due. Io sono duro. Vai. Devo girare una carta. Fase tua. Però aspetta, no. No, no. Perché te sei ingaggiata, quindi non giri carte. Quindi niente incontri. Fase dei miti. Pesca, pesca. Divertiti, vai. Due sempre. Sempre due. Bisogna vedere dal manualino cosa sono. Allora. Cosa per Sky? Un destino? Devi mettere di fondo i destini una volta il fondo al mazzo degli eventi. e collocandola un destino in luogo contrassegnato. Allora, dal mazzo, dal fondo. Metti un destino... No, ok. Se morirà, amore. Isola inviolata. Qui? No. Sì, sì. Isola inviolata dov'è? No. No? Isola inviolata non era lì? Era qui. Quindi un altro qui. Ok. E quel altro simbolo? Lo buttò via? No, no. Non lo buttò via, perché poi devo pesca anch'io. Magari lo ripiglio, De. Scusa. De, c'è ragione che c'è. E quell'altro? Un indizio. Un indizio. Generazione di un indizio. Genera un indizio prendendo una carta dalla scima del mazzo degli eventi e collocando un segnale di un indizio nell'area del centro del quartiere corrispondente. Ok? Quindi mette un indizio... Ah, scuse, quartiere. East Town. Puoi prendere quella carta... No. Poi prendete quella carta e due carte dalla scima del mazzo del quartiere corrispondente. Mescolatele assieme con le carte e collocatele insieme al mazzo. Ok. Quindi, Te e East Town. Prendi le prime due carte del mazzo. Le prime due. E ci mescoli anche quella lì. E poi le rimetti tutte sopra. Quindi ora East Town ci sono. Buono. Perché ci sono già... Lì bisogna andare a pulire veloce. Ora pesco io. Merda. Allora, quel simbolino lì è resa dei conti. Che vedi sulle carte... Te c'è una carta che ti dice resa dei conti, l'abilità? No. Io ce l'ho, ad esempio. Risolvete tutti gli effetti della resa dei conti su tutti i componenti in gioco. Quello che c'ho io. Tali effetti sono preceduti dall'icona di resa dei conti. Solitamente si tratterà soltanto l'effetto. Ok. Resa dei conti. Rimuovi un danno e un orrore da questa carta. E poi è uscito Cthulhu. Generazione di un mostro. Genera un mostro pescando una carta dal fondo del mazzo dei mostri e collocandola sul tabellone come richiesto dal suo testo di generazione. Allora, dal fondo del mazzo dei mostri. Quindi da questo. Segugio lamentoso. Genera casella con più destini. Quindi nella casella con più destini è lì. Due. Anche lì? Eh... Anche lì, amore? Bisogna andare a pulire quel quartiere. Prima che altro bisogna spostarci i mostri d'addosso. Quello tuo almeno. Ah! I mostri... Come metto? Il mio adesso lo devo attaccare perché sennò questo lo ammazza. Allora, lo attacco. Col Thompson. Sempre col Thompson. Sono sette dadi. Ah, il mostro che ci vi è attaccato addosso te l'ha fatto il danno, sì? Sì, sì, sì. Ce la farei un sette dadi. Oh, vai. Oh, finalmente va. Ok. Lo ammazzi e quando il mostro lo ammazzi... Mi dà qualche ricomprenza, no? No, a meno che non ci sia scritto un tirana sega. Lì c'è un destino. Non avevo mescolato. Voglio risolvere il destino. Ok, devi fare un tiro di protezione e il tiro di protezione andava sulla tua caratteristica. Te lo ricordi, mi sembra che fosse sapienza ma ricontrollo per sicurezza. Ok. E quindi l'hai rimosso e anche questo va via. Quindi le tue due azioni le hai fatte. Sì. Ora, tocca alla mia che posso fare un movimento andando nella strada e poi posso fare poco altro. No, dobbiamo andare subito qua. Sì, sì, infatti, allora... E lì poi? Posso... O ci vai te, laggiù. Tanto io comunque non ci arrivo, eh. Ora. Questa quanta forza c'ha? Tanto per vedere, no? Gira, gira, puoi far vedere. Qua? No, no. Meno uno di forza? Vabbè. Cioè mi toglie uno di forza a me? E te, te. Ah? C'hai sette. Io potrei andare a provare a pulire questi. Però se io ora entro in questa casella lui mi ingaggia subito. E ti fa un danno subito? No, no, no. Nella sua fase. I mosti fanno danno solo nella sua fase. Però... Però posso provare ad ucciderlo. Qui tocca fare qualcosa. Perché se no... Lì... Ci puoi provare ad andare a te da sola. Perché se... Eh, però lì è grossa. Proviamoci, dai. C'è una sega. Uno. E uno, due. E visto che non posso fare nient'altro con la mia prossima azione. O piglio un do... Ah, ricordiamoci che all'emporio si può comprare quest'armine. O... Piglio un dollaro. Se no faccio una cosa. Alzo la mia seconda caratteristica. Che... Voglio alzarmi sapienza. Quindi un più uno del libro. E mi alzo la mia seconda. Così nel caso di tiri di sapienza c'ho più uno. Fase dei mostri. Ok. Quindi il mostro ora si muove o nella casella... Quella instabile. Che è quella del simbolo. È sempre isola inviolata. Isola inviolata. Ah, c'è già lui su isola inviolata. Quindi lui rimane qui. Ha avuto fortuna. Perché è già sulla casella dove si doveva muovere. È una pattuglia. Questo mostro invece non è una pattuglia. Dovrebbe essere un cacciatore. Muovi diretto e impegna investigatore con più residui. Cosa vuol dire residui? Residui addosso di... A volte guadagni dei residui. Ammazzando certi tipi di mostri. Capito? Quando c'è scritto sulla scheda o cose del genere. Qui ad esempio non c'è scritto. Quindi non te lo prendi. Quindi dobbiamo riuscire noi. O viene da me o viene da te. Viene da me. Vai. Tanto siamo uguali. Il versetto non è andato per forza. E mi ingaggia. Ingaggiandomi automaticamente mi fa due ferite. Sì ma tanto io ho lo scudo. Per quello. Due ferite. E una sanità mentale. Quindi. Ta ta e ta. Vai. Ok. Quindi. Fase dei mostri. Ce ne altri no. Fase degli incontri. Nessuno te sei ingaggiato con un mostro? No. Io sì. Quindi io non la faccio. Te pesca uno dal centro cittadino. E guarda te sei nel manicomio di Arkham. Bene. Mentre. Mi viene da ridere. Mentre aspetti in sala d'attesa. Ti addormenti e ti concedi un po' del sonno di cui avevi un disperato bisogno. Da me proprio. Tu oppure un alleato recuperate due sanità mentale. Non c'è da recuperare niente. No nemmeno te. Ti senti rinfrancato quando l'infermiera Heather chiama il tuo nome svegliandoti. Il dottore è pronto per vederti. Puoi spendere un dollaro per far recuperare due sanità mentale a te oppure a un alleato. No. Non me la faccio nulla. Non è un evento. Gli eventi sono quelli con la lente di ingrandimento e la lente a sinistra. No. No. Non è un evento. Allora mettela in fondo. Voilà. Fine. Fase dei miti. Quindi. Pesca. 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 Si diverti. Si diverti. Si diverti. Si diverti. Ok. Ho parura. Di nuovo. Un destino e un coso. Allora. Quello potrebbe essere buono. Destino. Una volta scattata la faccia in giro la carta nel fondo del mazzo degli eventi e collocandola. Già mi preparo con il destino in mano. Allora. Il destino va in Velmas Diner. E dov'è? Velmas Diner. Qua. Tanto metti. Ce lo puoi si ride. Non si ride. Non si ride un cacchio. Però. Generare un indizio prendendo una carta dalla cima del mazzo degli eventi e collocandosi un indizio nell'area al centro del quartiere. Quindi. Va a quartiere mercantile. Si. Si. E intanto vale tornavo indietro e si era fatta l'avventura. Allora. Poi prendete quelle... Quella carta. Due carte dalla cima del mazzo del quartiere corrispondente. Ah ok scusa. È vero. Stavo per fare una cazzata. Questa carta qui è quella verde. Prendi le prime due del quartiere e ce la mescola insieme. Fine. Cosa diceva lì il nostro grandissimo amico quando... Se su una casella oppure cinque totale di destini su un quartiere collocate un'anomalia su quel quartiere. Ce la metti... Fai una cosa. Metticela sotto e ci metti gli indizi sopra. Quanto si è capito che c'è. Quando ci sono tre destini su una casella oppure un totale se i destini aggiunti stanno per essere collocati su un quartiere con l'anomalia. Ok. Tutti i nuovi destini che dovremmeno andare laggiù andranno sulla scheda. Ok. Ok. Si. Per rimuovere quell'anomalia bisogna rimuovere tutti i destini. Tutti dal primo all'ultimo. Tocca andare tutti e due insieme a togliere. Non posso. Quando ci sono tre più destini sulla scheda scenario giriamo la carta. Ok. Quindi gira a pigliare anche per me amore. Tanto è lo stesso. Questa fammi allungare. Prende io. Prende. Vabbè. Prende te. Te lo dico. Fallo. Allora. Oh. Finalmente ha cose differenti. Squarcio del portale. Risolvono lo squarcio del portale prendendo una carta dalla cima del mazzo degli eventi e collocando un segnalino destino in ogni casella del quartiere corrispondente. No. Porca miseria amore. Eh. Quartiere mercantile. Ecco. Ok. Quartiere mercantile mettene una per ciascuno. Qui. Uno. Due. Intanto mescolo e rimetto. E tre. Eh. Siamo nella merda perché anche lì va ad un'altra anomalia mi sa. È difficile sto gioco. È molto difficile. Troppo cazzo. Tutti i giochi. Ha un'altra anomalia. Eh. Uno. Due. E tre. Anomalia. No. Cambia adesso. Eh scusa. Vieni. Grande Lovecraft. Ma Lovecraft nella vita. Non ciò vado a fare un cazzo che parlare di leocorni e non lo so boh. Gattini rosa. No. Lettura di un quotidiano. Oh qualcosa di differente. Pescate e leggete una carta dalla cima del mazzo dei quotidiani. La carta influenza soltanto l'investigatore che sta risolvendo questo effetto. Quindi io. Poi scartate quella carta in una pila degli scarti a faccia in su. Se viene richiesto di pescare una carta quotidiana mentre il mazzo è vuoto. Vabbè. Allora. Quotidiano. Reperti rubati da una mostra di rarità. La polizia beffata. Impazzito il curatore afferma che i reperti sono maledetti. Quotidiano. Effetto una prova di... Cos'è la chiorba? La chiorba è volontà. C'ho un dado. Perfetto. Potrei provare a ritirare ma non lo faccio. Voglio fallire. In base al risultato della tua prova. Ah scusa no. Ho fatto due. Uno due. Ottieni un oggetto insolito e diventa maledetto. Quindi questa va scartata. Rimetti lì lì. Poi rimetti via. Questi i giorni lì. Un oggetto insolito ho bescato. Fiabe dei fratelli Grimm. Azione. Un investigatore o alleato nella tua casella recupera una sanità mentale. Il problema è nella tua casella. E in più prendo una condizione maledetto. Mentre risolvi una prova solo i sei dadi contano come successi. No. Solo i sei contano come successi. Dopo che hai superato una prova... Ah però dopo che l'hai superata scarta questa carta. Quindi fine del fine del fine. Rinizia e tocca a te. Ti tocca andare subito. Mostri stappati non ce n'è. Due. Ora o combatti... No. Il mostro a te non ce l'hai. No. Perché sono andato lì? Potevo andare lì. Dove? Lì giù. Vai giù. Vai bene. Dai. Tanto gioco operativo. Vai eh. Non è che... Sì. Ma a me hai fatto un movimento. No. Vai. Vai. Non ti preoccupare. Quello ci vado io. Ero qua. Uno e due. Ok. Ora fai un tiro di protezione. Ti ricordi sempre che protezione andava su... Sapienza. Sapienza. E ricordati che c'è un più uno eh. Sì sì. Quattro. Quattro. Ma neanche per casa. Ok. Puoi consumare qualcosa e ritirare un dado se vuoi. Però non c'è più il bonus. Vai. Vai. Tanto non lo puoi riprendere dopo. Tira un dado solo. Ritiralo perché è umbilico. Cinque. Oh. Ne rimuovi uno. Ok. Però ovviamente il portale resta. Perché vanno rimossi tutti. Ho fatto un movimento e ho tolto un coso. Quindi io sono a posto. Fine e il mostro ti ingaggia. Quindi te l'attacchi addosso. E io faccio uno e due. Perché cerco delle vande il più possibile. E io di sapienza ho quattro. C'ho... Ah no aspetta. Eh. E più due. C'ho il pugnale. Eh. Stasi sono importanti. Però solo con sei eh. Che sono maledetto. Dai che ce la fai. No. Però se la supero quella la butto via. Sei. Sei. Oh. Quindi ho scartato la maledizione. E ne ho tolto uno. Se non ne potevo togliere due. Vai. Uno l'ho tolto. Via. Dai coglioni. Uno l'ho tolto e... Dio. Io ho il mostro attaccato addosso. Ancora. L'ho attaccato a coglioni. Fase dei mostri. Quindi il mio mi attacca. Quindi prima si fa il mio. Tanto no. Anche te ce l'ha addosso. Quindi non c'è problema. Allora il mio mi toglie due. Che vanno sullo scudo. No. Vanno su di me. Perché lo scudo c'ha già il massimo. E due. Sanità mentale. Che vanno uno sullo scudo. E uno su di me. Quindi uno sullo scudo. E uno su di me. Fatto. Il tuo. Una ferita. Vai. Ok. E questo. La fase dei mostri è fatto. Fase degli incontri. Non la facciamo. Quindi è merda su merda. Perché siamo ingaggiati. Fino a che non te lo stacchi di dosso. Non la puoi fare. Fase dei miti. Nulla. Fai vedere se non ci credono. Oh. Tocca a me. Ora io ho due bomba atomica. Allora. Io ho tirato fuori. Merda su merda. Quindi. Ma sempre li tiri fuori quelli. Destino. Quindi sempre dalla fonda del mazzo. E colgato segno nel luogo. Contrassegnato con l'icona destino. Allora. No. E va. Isola inviolata. Dove sto pulendo? No. Ma io ti ammazzo. Vai. Isola inviolata. Isola inviolata. Tanto ormai il portale è aperto. Però abbiamo avuto culo che ne ha levato uno prima. Sì ma me l'hai rimesso. Eh no ma perché se no andava sulla scheda del coso. In più. Squarcia del portale. Risolvere una carta squarcia. Prendendo dalla scima del mazzo degli eventi. Collocando un segnale destino in ogni casella del quartiere corrispondente. Quindi nord side tutto pieno. Nord side già ce l'ha. O no? Sì ma. Ma no è lì. Altri tre. Chi è? Chi è? Aspetta la carta al fondo del mazzo. Devi vedere quella carta se... Sì sì. Ok intanto rimescolo questa la pila degli scarti. Grazie a voi mio. Uno. Due. E tre. Vedi? La città di Erkan. La città di Erkan. Dice mescolatele. Lo so che sono due. Tiè. Vai. La città verrà distrutta all'alba. Vai questi vi. Vai divertiti. Tocca a te per prima. Comunque ti devi levare il mostro. Perché se non ti levi il mostro di dosso... Sì sì adesso ho lo picchio di brutto. Tre. Sei. E' il settimo positiva. Vabbè. Eh. Due eh. Non è che. Vabbè vai. Oh sto mostro schifoso è morto. Yeah. Mettelo in cima al mazzo dei mostri. Ok. E la tua prima azione è fatta. Ora c'è la seconda. D. Cosa vorremmo a fa? Devo proteggerli. D. Tre. Perché non è più il bonus. Cioè carte che ti danno bonus a sapienza a volte no eh. No per orrori e concentrazione. Sì. Vabbè uno l'ha rimossa. Almeno si cerca di scongiurare un po' là. Ok. Eh. Il totuno è fatto. Ora il mio. Me lo devo levare di dosso per forza. Però giocando su forza io ho tre dadi. Quattro. Più due dell'arma. Non c'è spazio per lanciare i dadi qua eh. Vabbè. Metto un attimo qui perché se no... Vabbè. E lo metto qua sotto. Quindi ho quattro dadi del bonus più due dell'arma però il mostro me ne toglie uno. Quindi ne tiro cinque. Cinque più. Oh. Il mostro ha... Ha la faccia del cazzo. Questo ha... Cinque hai fatto eh. Sì lo so però... Eh questo ha cinque punti feriti. Quattro punti feriti. E glielo ho fatto uno solo. Allora quindi lui mi dà un segnalino ferita per fuori che lo metto sul mostro. Che anche mostri devi segnargli. Quindi questo ha un punto ferita. Però se l'ammazzo prendo un residuo che potrebbe servire. Ora eh... Azione per forza di coso di sapienza che tiro quattro. Però c'ho il pugnale quindi anche per la sapienza tiro sei dadi. E questa volta valgono anche cinque. Il problema è che non potrò mai andare a tirare cosi. Io non posso prendere... Te sì perché non c'è mostri. Vai due. Uno e due. Cinque e uno sei. Ma c'è? Quindi... No eh scusa sono di qua. Uno e uno due. Oh si inizia un po' inarragionà. Aspetta un attimo che ho buttato un segnale in troppo qui. Non sono ricordato. Ora fase dei mostri. Il mio mi attacca e mi fa due. Io frappino schianto. Dove sono? Due ferite. Ma? Due ferite e due errori. Non creano mostri? Le? No è la fase dei miti che genera mostri. Ok ok. Quindi io mi prendo... Io lo devo ammazzare per forza sto qui. Due ferite e altre due schiatto. E due errori. Gli errori sono questi? Perché devo fare un'illusione. No quelli col cervellino. Quelli blu col cervellino. Quante ne hai già? Fatti prossima azione ludo. No perché se ne hai tre ti do il cervello grosso con tre. Ho scritto... No vabbè è uguale. Non te lo qua. Quindi fase dei mostri è fatta. Te non ce n'hai corpo a corpo. L'hai distrutto. Fase degli incontri. Faccio io la fase degli incontri. Che non la posso fare. Cos'è? Quartiere mercantile quello? Quartiere mercantile. Che zona è? Isola inviolata. Isola inviolata. No! Abbia idea! Cos'è? Sette figure ammantate si sono disposte in cifra al suo marco. E cantano in coro. E cantano in coro. Caos guidaci! Caos prendici! Che poi qui non serve che dico caos. Caos! Caos! Ottieni un indizio dal tuo quartiere. Oh! Tiè! Trametti sulla tua scheda. Sì. Aspetta. Dal tuo quartiere. Cerchi di fare il tuo meglio per osservare l'intero rituale evitando di far rumore. Quindi devo fare tiro volontà. Se superi la prova, una di esse dimentica qualcosa dopo aver concluso. Tiro un oggetto insolito. Vabbè, tanto lo posso fare anche con uno. Sì, ma... Due dadi. Due dadi soli? Sì. Niente? No! Non c'è scritto neanche un numero qua. Devi fare le prove e si superano sempre con 5 o 6 sul tiro del dado. No! Se ne falli. Aspetta, non posso usare qualcosa per ritirarlo. No, non c'è più bonus e nulla. Puoi usare? No! Puoi usare il segnale di un indizio e lo converti. Però l'indizio ci serve per vincere. No, no, no. Quello che ho cacchio. Già se è buonissimale. Niente? Nulla. No. Comunque la prova l'avevo già superata. Cioè, non c'è niente... Allora, quello però era quella con la lente, giusto? Sì. Vai. Ok. Fine. Vai. Cosa? Pesca, pesca. Vai se li metti. È difficile il tuo gioco. Molto. Perché devi correre, però? Dai, tiriamo un po' la morte. Corro, ca puttana. Vai. Innanzitutto... Diffusione dei listini, sempre dal fondo ne prendo uno e collocato nel luogo intrassegnato con l'icona. Quindi va... È sempre lì, perché va sempre in fondo. Ancora nell'isola inviolata. Quindi te lo puppichi vi. Te lo levi e lui ci torna. Te lo levi e lui ci torna. Vai, poi. Mi sono attaccato. Oh, oh, oh. Perché lo tiri? No, metterlo lì. Lo devi mettere in isola inviolata. Ce l'ho già messo, ce l'ho già messo. Ah, ok. E poi questo. Aspetta, risolvete tutti gli effetti di resa dei conti su tutti i componenti in gioco. Ah no, l'hai attivata anche per me. Grazie. Rimuovi un danno e un orrore da questa carta. Grazie, mi hai liberato un po' lo scudo. Lasciamoli levoli, rimetteli nel secchiello. Niente. E Cthulhu. Cthulhu era cattivo. Generazione di un mostro. Gendera un mostro pescando una carta dal fondo del mazzo di mosse e collocandola sul tabellone come richiesto nel suo testo di generazione. Se non lo generi nel mio quartiere, t'ammazzo. È un Tindalos. Cos'è? Boh, mostrone forte. No. Tindalos alfa, mostro seguccio di Tindalos. Genera casella con più destini. Sì, amore, è tutta tua. Non so scherzare. È tua, la casella con più destini è questa. Ma c'è anche lì. La casella. Quanta forza c'ha? Due o più, poi ti dico. Due o più. Tu. Brava, combattila. Tocca a me. Rimettiamo a posto queste qui. E tocca a te. Questa mazza. Allora, visto che sei nella stessa casella, lui automaticamente ti ingaggia. Lui c'ha vita due o più, elite uno, possiede una salute aggiuntiva per ogni investigatore. Quindi ci sei sola e quindi c'ha vita tre, perché lo combatti. Però se lo uccidi prendi anche un residuo, che poi dopo ti ricordi sono. Mi tieni. Meno due di forza? Sì. Mi dà meno due? Pure! Quindi io c'ho cinque di forza. Però ferite ce n'ha se detto tre. Cthulhu Ftang. Ma è una maiala. Cthulhu Ftang. Cthulhu Ftang è una cespa. Unly friendly. Unly friendly. Cthulhu Ftang. Cosa è questo? Vabbè, due ferite gliele fatte. Segnagli. Cos'era quella cosa lì? Gli ne manca una per morire. No, non lo posso riattaccare. Però potresti fare illusione. Illusione è un'altra mossa. Lo puoi fare, sì. Fai un tiro con l'occhio. Cos'era l'occhio? Sì, ma mi dà meno due e io devo tirare solo un dado. O sennò puoi fare l'azione di levare le cose da terra. Se facevi illudere non ti attaccava lui nel suo turno. Mi faccio attaccare e lo devo ammazzare. Vabbè. Uh, due. Due. Quindi ne togli due. Eh, bravo. Ora, tocca a me. Che io ho ancora quel mostro addosso e purtroppo io devo combattere e me lo devo levare. Allora, lui mi dava il bastardo meno una forza. Però c'avevo 4 di partenza. Più il pugnale mi dava altri due, quindi uno soltanto. Avvizzimento come parte di un'azione di attacco per effettuare una prova di aggiungere il risultato. Eh, di qualsiasi la uso. Come parte di un'azione di attacco. Uso questa. Allora, faccio una prova di libro meno uno, sapienza con meno uno, quindi tre. Ok? Il risultato che viene lo sommo all'attacco. Praticamente dice, aggiungi il risultato della tua prova al risultato della prova dell'azione di attacco. Capito? Il risultato della mia prova? È un 5. Sì. Ok? Quindi, perché i successi sono solo quelli che ti ricordi. Quindi. 5 più. Quindi, un successo l'ho già fatto. Con i dadi che tiro dopo, un successo ce l'ho automatizzato. Praticamente questa qui, avvizzimento, ti dà un bonus in forza. Però, per utilizzarla, devo spendere... Ah, no. Scusa, sto per dire una cazzata. Quindi, un successo ce l'ho automatico. Devo tirare i miei 5 dadi. Perché ce ne avrei 6, però meno uno. Ok? E una ferita l'ho già fatta, praticamente. Quindi, uno, due ferite. Due ferite... Ci sono... Eh, no. C'è un'altra ferita, purtroppo. Dammi due segnalini. Aspetta, li pigli da qui. In comune. Purtroppo... Purtroppo non è morto. Guarda, si fa così. Trovate velo del 3 e li si mette velo del 3. E con l'azione successiva, purtroppo non posso fare... Nient'altro che muovermi. E mi muoverò... Però non posso fare... Nient'altro. Fine. Fase dei mostri. Te c'hai quello lì addosso che ti fa due ferite e due errori. Eh, eh. Cazzo. Due ferite e due errori. Cercateli. E il mio, praticamente, è di misciagatta, ora. Praticamente faccio così. Ho 4. Quasi li tolgo. Metto un 3. Ho un altro. Una. Ora, a me, dammi... Due ferite e un orrore. No, scusa. Sì, due ferite e un orrore a me. Aspetta. Una volta per round, dopo che hai subito uno più errori, puoi analizzare un indizio. Come o tomo. Sì, analizzare l'indizio è quello che la prendi e lo sposti qua giù, te lo ricordi. Ah, lo posso mettere lì? Sì. Sì. Allora, io invece prendo la bellezza di una ferita, va qui. Una ferita, va qui. E alla prossima sono morto. E un orrore, invece, va sullo scudo. E lo scudo rieppieno. Tocca andare all'emporio per curarsi qui, eh. Fase dei mostri si è fatto. Fase degli incontri. Fase dei miti. Non la fa nessuno. Fase dei miti. Dite Dio alla partita. No, si è fallita tremendamente. Vabbè, la prima partita. Sì, sì. Zero. Un po' di solito ciò che si fa almeno un tre e un quattro, eh. Niente. Non scala bene in due. No, no. Niente, però ho generazioni mostri. Quale? In seguitore incappucciato. Ecco. Genera casella con più destini. Lì. Laggiù. Ok, qui. Basta, tocca a me. Ti prego, ti prego. Già prevedo coso col boom, eccetera. Tu Lufthang. No, un lì, vabbè. Un coso e un altro mostro, però. Mostro. Cos'è? Servitore abissale. Questo è il cazzo. Strada più vicina alla preda. Siamo pari. Quasi, quasi. Ti sei messa di merda, io c'ho lo scudo. E in più, questo, li puoi ributtare dentro, tanto leggiamo il giornale. Gli unioni dei cittadini costernati, le autorità civili, no, vabbè. Le autorità civiche lodano il volontariato. In azione, cosa vuol dire? Vabbè. In azione nei casi di persone scomparse e omicidi. Quotidiano. Effetto una prova di manina. Dov'è? Carisma. Io carisma, ho tre. Vediamo un po'. Sarebbe superata. E risolvi l'effetto in base al risultato della tua prova. Poi, a quanto ho fatto? Sei, sei, doze. Vabbè, tre o più. Ottieni un alleato. Lei, qua. Ok, questa va scartata. Ottieni un alleato. Zora la... Cambio carta. Zora... Zora Larsson. Azione. Un investigatore o alleato nella tua casella recupera una sanità mentale. Eh, io non c'è. Anche a me. Anche a me. Ed è un'azione, eh. Ok, miti. Fase di miti finita. Adesso tocca a me. Tocca a te, tocca a te. E a massa mosroni. Sì. Allora, cinque dati. Cinque? Sono cinque? Due. Due. Morto. È morto. E mi prendo un residuo. E ti prendi un residuo che sono... Ti abbuta l'interno. Ah, scusa. Questi qua. E il mostro ucciso va in cima. Tocca a te. Allora. Che hai fatto la tua azione. Allora, io siccome c'ho... Sì, l'ho ammazzato, quindi un'azione è andata. Una volta per round, dopo che hai subito uno più orrori, puoi analizzare un indizio. Eh, ma te non hai subito orrori. E questi dove sono? Eh? Questi non sono orrori. Ah sì, vabbè, sì, è che ce le vi già addosso, eh. Puoi analizzare? Un indizio. Gratuito o c'è scritto azione? No, non c'è scritto azione, no? Una volta per round. Ok, allora non ti costa. Dammi l'indizio e si mette qui. Poi. E quindi già una parte della missione la si sta facendo, piano piano. Sì. Buona, Ugo. E non è fatta azione, quindi ce n'è ancora... No, uno, perché con uno è ammazzato il mostro. Non so cosa poter fare, perché io mi sono messa male di salute e pure te. Eh. C'è po' da fare, c'è da... C'è da ammazzar mostri per fare gli incontri. Il problema è che ora i mostri poi... Quello si muove di due, quello si muove di due. A me mi ingaggia per forza. O forse no, ma penso per forza. E te forse no. Ricordati che se io divento concentrato, perché posso aumentare un limite a concentrazione, divento concentrata, aumento le tue abilità di uno, eh. Anche a distanza? No, no, devi venire invece a me. Eh, eh. Cosa fai? Qui o rimuovi questo? Eh, che cosa devi fare tanto? Fai il tiro. A voglia. Uno, due, tre. Eh, però ne ho rimuorso solo uno, perché rimuovi solo quelli nella casella. Ok. Quindi anche vista qui è fatta. Tocca a me. Io rimuovo quello, per forza. Quindi è una prova di... Scusa, c'è un nemico alle calcanea. Non ti conviene levati un attimo, recoglione. A cercare l'emporio prenditi qualcosa che ti aiuti. Ma ce n'è cure nell'emporio? Cosa c'è? A parte un giro sordi, però ce n'è. Una volta per round. Se questa carta sta per subito i due più orrori, previeni uno di quegli orrori. Facciamo una cosa, vai. Tanto... Allora, mi muovo, faccio uno. Spreco il momento e poi faccio l'azione di lì. Quindi, la mia bellissima sapienza più quattro. Vai, rimuovi quello lì. Perché non so come si muove quel mostro, se è un cacciatore o no. Ora, fase dei mostri. Quindi, vediamo cosa si attivano. Questo cacciatore muove verso impegni investigatori con meno forza. Quello con meno forza esce quattro, te? Io ne ho cinque. Cinque? Con la carta, cinque. No, no, no. Sei sette. Conta soltanto quelle sulla carta. Allora, due. E il bonus, due? Sì. Uno... Scusa, no. No. Lui era qui sopra, quindi fa uno e due. Va sulla strada. Questo invece... Stai a vedere, eh. Cacciatore muove verso impegni investigatori con più indizi. Ah, meno male. Perché l'unico con gli indizi non ce ne sono. No, ma verso qualcuno deve andare per forza. Però possiamo scegliere noi. Faccio un inverso di te, così si perde, vai. Vai, faccio un inverso di te. Fa uno e due. Sì, vabbè, tanto non è detto che ti attacchi se non c'hai più indizi. Ok, nessuno ci ha attaccato i certi coglioni. Oh, fase degli incontri. Fai prima te la tua. Oh, no. Fase dei mostri, c'ho il mio. Non mi sono reso conto che c'ho ancora il mostro addosso. Ma io sono scemo. Cioè, io ho fatto il movimento e ho tolto il destino. Eh, la tengo. Quindi il mostro mi fa due ferite che io non assorbo e il mio personaggio muore. Praticamente in questo gioco regola vuole che quando un investigatore muore, però ovviamente ragazzi se il nostro video viene troppo lungo durerà anni, quando un investigatore muore te lo rimuovi dal gioco, no? E automaticamente metti un destino sulla mappa del coso, no? Perché, vabbè, la città, insomma, ha perso un grande investigatore e il male è diventato più potente. In più, devi scartare questo, prendere un nuovo eroe, un nuovo investigatore, rifare tutto il setup iniziale, no? Rimettono lì e lo fai partire dalla casella dove parte. Per questa volta diciamo che la partita è finita così, perché ci vorrebbero due ore a rifare tutto il setup e partire con uno. Comunque ragazzi, per farvela in breve. Il gioco è... Allora, il gioco è molto bello. Sembra difficilissimo e lo è, ma non è per il fatto che è difficilissimo. È che scala male con due giocatori. Perché questo, secondo me, è un gioco che... Minimo tre. Minimo tre. Minimo tre, già quattro si va bene, però minimo tre. Perché, come vedete, in una casella come quella di prima me e mia moglie, che se era generato un rift, un portale, più tutto il resto dei destini, non bisognava dividerci. Bisognava andare in due e ripulirlo. È tutto un gioco di velocità. Più che di pensare bene alla mossa da fare, è un gioco di velocità. Le cose importanti sono staccarsi i mostri di dosso, perché se no non fai gli incontri, se non fai gli incontri, non prendi gli indizi. E se non ti muovi velocemente e non chiudi le dimensioni, scusate, i destini si aprono i rift, i portali. Quindi tutto un gioco di velocità. Io dico la verità, io l'avrei preferito, perché questa è la terza edizione del gioco. Hanno già fatto la prima e la seconda, tanti anni fa, già ha otto anni sto gioco, una cosa del genere. Anche dieci. Io avrei fatto la terza edizione con l'app, te lo dico sinceramente. Quello che sto facendo vedere anch'io. Questo è il gioco di Token. Ragazzi, il gioco è bellissimo. L'avete visto anche in recensione, se no gli davo due, se era una merda. Io non c'ho problemi, eh. No, merda non è. No, non è un problema a me dire il gioco non sa di nulla. Il gioco è bellissimo, però ha lo stesso problema delle case della follia. C'è troppe cose da tenere a mente, come avete visto in tutta la partita, e tenevo sempre il manuale aperto sulla fase dei miti, perché non te li puoi ricordare a mente. No, smorza sta cosa qua se c'è l'applicazione. Sì, se c'hai l'app, le case della follia è veloce come gioco, perché te non lo devi nemmeno leggere il regolamento. Fottiteli. Ti dice tutto l'app cosa devi fare. Sì, sì. Ed è quella la cosa bella. Però, insomma, faremo sicuramente un'altra partita, e questa è finita un pochino in un schifio. Ma è questa? Si chiamerà partita di prova. Prossima volta si fa con Pippo on 3 e si vince, vai. Ciao ragazzi, alla prossima. Si è perso. Tu Lufthang. Ciao.